E' stato individuato ed arrestato nel giro di poche ore l'autore della doppia rapina avvenuta nella serata di venerdì ai danni di due esercizi commerciali situati nel quartiere di Pastena a Salerno. I carabinieri della compagnia, agli ordini del Maggiore Antonio Corvino, hanno infatti stretto il cerchio con rapidità attorno a Giovanni Fenio, 32enne con piccoli precedenti, originario di San Mango Piemonte, ritenendolo il responsabile dei due colpi commessi con l'uso di una pistola ai danni di una ricevitoria e di una pasticceria situate a poca distanza l'una dall'altra. Fondamentale la tempestiva richiesta d'aiuto da parte delle vittime che ha consentito ai carabinieri di intervenire e di inchiodare l'autore. E' un elemento imprescindibile, fondamentale, che invito a continuare a fare ed è quello di chiamarci immediatamente. Noi stiamo cercando comunque di dare una risposta sia dal punto di vista preventivo, con continui servizi esterni, con un'intensificazione di quelle che sono le pattuglie a maggior ragione durante il fine settimana, e poi cerchiamo anche di dare delle risposte più concrete con un'attività repressiva come fatto in questo caso. Ma c'è un'altra richiesta di aiuto che ha trovato pronti e sensibili i carabinieri ad intervenire ed è quella partita dai dirigenti scolastici di alcune scuole salernitane che lamentano giro di droghe davanti agli edifici. Così, con l'ausilio del nucleo cinofilo, i carabinieri della Compagnia di Salerno hanno svolto specifici controlli presso l'Istituto Alberghiero Virtuoso. Le attività hanno permesso di rinvenire e sequestrare piccoli quantitativi di hashish e marijuana ritrovate in aree comuni del plesso scolastico, nonché un coltello a serramanico trovato nello zaino di un 15enne. Il ragazzo è stato denunciato e stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minori di Salerno con l'accusa di porto abusivo di armi. L'attività di prevenzione, come conferma il Maggiore Corvino, proseguirà anche nelle prossime settimane. Anche su questo voglio precisare che abbiamo posto in essere un'attività repressiva con due unità cinofile su richiesta di un dirigente scolastico ed è un'attività che continueremo a fare anche nei prossimi mesi puntando appunto molto anche sulla sinergia tra forze dell'ordine e personale scolastico. Grazie a tutti. Grazie a tutti.